guarda! che culo! ma che carina! mi sto a regamo! non è 27 tu sei a tutti? no, non vuoi essere un'ora del film 27 per... no giornale dov'essi si, del settembre di giornale ma è il giorno? domenica, le tre! eh! a gennaio a gennaio? ma il domenica? ma il 27 gennaio? a me il giorno! perchè? perchè in realtà ci avevo fatto bene a Milano, a Milano e va bene cosa hai detto sempre ritorno nel secondo percorso assolutamente la gente fa il quarto riuscita con la scuola